Il congresso che abbiamo appena concluso di Città Slow International è importante, è capitato in un momento particolare. Il passaggio di testimonie da Pisani a Migliorini è avvenuto nel modo migliore, con un dibattito molto ampio che ha coinvolto tutti i paesi, tutti i soci e che ha messo al centro le idee di Città Slow che dopo vent'anni sono il pilastro su cui costruire la ripresa del nostro paese come di tutti i paesi. Reverent Fund, il programma che dovremo attivare, dovrà avere al centro queste idee, cioè le idee di uno sviluppo che tenga conto della persona e non del risultato ad ogni costo. Questo è quello di cui si è discusso e crediamo che sia stato un lavoro molto positivo.